risca del bene in cui una persona, il pignoramento. Grazie, prego, onorevole Pallone, può rispondere. L'abbia detto anche il mio collega Andrea Sciabba, l'abbia detto anche il redatore principale. Certo, le leggi non sono perfette. L'importante però è che se noi iniziamo a cercare una legge perfetta, rischiamo di non legiferare. Allora, noi abbiamo fatto un grande passo avanti. Per la prima volta abbiamo un sistema dei mutui a livello europeo. Non è il toccasana dei problemi, ma certamente abbiamo iniziato a zorgere e a mettere un tassello importante su un problema dove era un ginepraio a livello europeo. Abbiamo 20 sistemi diversi. Oggi tutto può essere migliorato e credo che le condizioni ci sono per migliorarle perché abbiamo dimostrato tra il relatore principale e il relatore Umbra di accedere ad un'impostazione senza pregiudizi, senza delle fasi ideologiche, ma per il bene comune. Credo che se il collega ha impostato un discorso che riguarda il bene comune da parte nostra non c'è nessun tipo di pregiudizio. Grazie signor Pallone, ora per un minuto, a nome del PCL, l'onorevole Regno. Grazie Presidente, Commissario. In primo luogo vorrei ringraziare il relatore per il suo lavoro estremamente costruttivo.